Volevo dire una cosa a proposito di Mattri e del fatto che non segni da un po' di tempo, eccetera, credo che si possa fare un'analogia, cioè i goltroni attaccati sono come il ketchup, no? Tu sai, schiacci, schiacci, schiacci e non viene poi niente, poi all'improvviso ne fai 5 di seguito. No, è così, ne sbagli 3 o 4, ti sembra di interessare un momento… Vedrai che dopo che parà il primo, signora Arattica, è solo una questione che comincia a uscire un po'. Il ketchup. Vediamo, vediamo, andiamo a vedere. Allora…